Salve a tutti, benvenuti in questa lezione nella quale parleremo della caduta di Accad alla fine della terza dinastia di Ur circa 2002-2000 a.C., urbanistica, architettura ed espressioni artistiche. Affronteremo i seguenti argomenti, introdurremo storicamente il periodo, parleremo poi dell'urbanistica e dell'architettura, passeremo poi a trattare la statuaria, il rilievo e la teoreutica e infine parleremo dell'aglittica. Ma partiamo subito dall'introduzione storica. Nella lezione precedente abbiamo visto come la fine dell'impero accadico sotto l'ultimo re Shoturul sia stata determinata dalle invasioni delle popolazioni provenienti dai Monti Zagros, ovvero dai Lullubiti e dai Gutei. Questa fase, che succede la fine dell'impero accadico, viene denominata nella letteratura, solitamente nella periodizzazione storica, come periodo post-accadico o dinastia Gutea. Secondo la lista reale sumerica, la dinastia Gutea è durata all'incirca 40 o 100 anni, ovvero può essere datata nel periodo compreso tra il 2150 e il 2111 a.C. o alternativamente nel periodo compreso tra il 2210 e il 2111 a.C. La lista reale sumerica sintetizza nell'espressione chi era re, chi non era re, l'incertezza di questo periodo. Infatti sembra che il dominio Guteo fosse stato alquanto effimero perché i re Gutei non hanno lasciato iscrizioni documentate negli scavi archeologici dei siti della Mesopotamia meridionale e probabilmente mantennero il potere solamente nelle città della Mesopotamia centrale, più in particolare nella zona della Diyala e probabilmente al ridosso dell'area dei Monti Zagros. Infatti in questo periodo è testimoniata l'autonomia di diverse città-stato del sud sumerico e in particolare documentate a Lagash dove è attestata la cosiddetta seconda dinastia lagashita. Allo stesso modo a Mari è documentata una dinastia di Shakannaku, ovvero di governatori locali e nel nord della Mesopotamia il regno di Urkesh con sede a Tel Mozan, l'antica città di Urkesh, si riorganizza in questo periodo dopo essere stato a lungo al di sotto del controllo dell'impero accadico nella fase precedente e riacquista in questo periodo autonomia e controlla tutta la parte della Mesopotamia settentrionale denominata nelle fonti antiche con il nome di Subartu. La fase successiva è denominata periodo di Ur III o periodo neo sumerico e corrisponde alla presa di potere da parte della terza dinastia di Ur che si data, secondo la cronologia media, tra il 2111 e il 2003 avanti Cristo. Durante il periodo neo sumerico, quindi, riacquistano potere le città del sud della Mesopotamia e viene riorganizzato lo Stato che è un Stato fortemente centralizzato con un'ampia periferia militare e regni vassalli, come vedremo tra poco. La dinastia di Ur con il fondatore Urnammo, come vedete, si sovrappone in parte alla seconda dinastia di Lagash. Infatti Urnamma è contemporaneo di Urgar, il quart'ultimo sorano della seconda dinastia lagascita. Sembra appunto che Urnammo, nei primi anni di regno, sia sottomesso al re Utukengal di Uruk, che è l'unico re citato nella quinta dinastia di Uruk, che si freggia del titolo di re di Sumer e di Akkad e dice di aver liberato le città-Stato e il sud sumerico dal dominio Guteo. Utukengal, re di Uruk, quindi in un primo periodo del regno di Urnammo, domina nel sud della Mesopotamia e sappiamo anche delle iscrizioni di Urnammo, che dedica a Ur e alcune statue e compie dei restauri nella città di Ur per il suo re Utukengal. Questo ci fa capire come all'inizio del regno di Urnammo egli sia sottomesso a Utukengal e al potere della città-Stato di Uruk. Sembra però che subito dopo, almeno intorno al settimo anno di regno di Urnammo, egli abbia preso il potere marciando sulla città di Uruk, sconfiggendo il re Utukengal e nominandosi a sua volta re di Sumer e di Akkad. Nei primi anni di regno, quindi, Urnammo stabilisce il controllo del nucleo dell'impero della terza dinastia di Ur, quindi nella Mesopotamia meridionale e centrale. Compie una spedizione contro Namahani di Lagash, l'ultimo re della seconda dinastia lagashita, e stabilisce dei matrimoni dinastici con i sovrani Shakannaku della città di Mari. I successori di Urnammo, in particolare Shulgi, che ha un regno particolarmente lungo, che dura all'incirca 48 anni, portano avanti le conquiste intraprese dal fondatore della dinastia Urnammo e in particolare Shulgi estende il dominio della terza dinastia di Ur nel nord della Mesopotamia, conquistando Karkar, che corrisponde alla zona dell'attuale Kurdistan iracheno, marcia su Urbilium, l'attuale Erbil, e su Shashrum, probabilmente identificabile con l'attuale Tel Shemshara, compie delle spedizioni vittoriose contro Simurrum e muove anche verso Amurru, cioè verso il paese occidentale, la Siria, gli altopiani della Siria occidentale, che erano abitati prevalentemente da popolazioni nomadi o da tribù, definite nei testi della terza dinastia di Ur III con il termine di Martu. I successori di Shulgi, in particolare Amarsuen e Shusin, consolidano i confini del regno stabiliti da Shulgi e compiono delle spedizioni più a nord verso Assur, nel caso di Amarsuen, e Shusin compie delle spedizioni verso l'Iran e in particolare verso Simmanum e sconfigge e compie delle spedizioni anche di nuovo verso l'area controllata dalle genti amorree ed è proprio durante il regno dei sovrani Amarsuen e Shusin, che viene costruito il cosiddetto Muro dei Marto, una specie di muraglia cinese di minori dimensioni ovviamente, che non è stata riscontrata archeologicamente sul terreno, ma che probabilmente, a quanto sappiamo, dalle iscrizioni di sovrani della terza dinastia di Ur doveva trovarsi lì dove i fiumi Tigri e Eufrate si avvicinano all'altezza di Baghdad. Questa muraglia fu costruita per tenere lontano dal centro dell'impero di Ur III i nomadi che spingevano verso il centro del regno e vedremo più tardi come l'avanzata e le pressioni delle popolazioni nomadi provenienti dagli Zagros ma anche dall'area siriana occidentale porteranno alla caduta dell'impero di Ur. Durante la terza dinastia di Ur sono documentati rapporti commerciali con diversi importanti centri localizzati lungo l'Eufrate, in particolare, come abbiamo detto precedentemente, con la città di Mari con la quale vengono stipulati degli accordi matrimoniali, mentre sono documentati alla corte di Ur III dei mercanti provenienti dal centro di Ebla, ma anche provenienti dal centro di Urshu che probabilmente è localizzato lungo l'alto corso delle Eufrate. Durante il periodo di Ur III, o anche detto Neosumerico, ovvero della rinascenza delle città del sud della Mesopotamia, dopo il periodo di dominio accadico e successivamente il periodo di dominio guteo, vediamo come il regno fondato da Ur-Nammu e portato avanti e ingrandito dai suoi successori si basi su una serie di interventi strutturali come il potenziamento della rete dei canali, ma anche il deliberato reinsediamento delle genti sottomesse che vengono deportate dai loro luoghi di origine e vengono in villaggi fondati ex novo nella Mesopotamia meridionale, come il caso del villaggio degli uomini di Lullubum, nominato nei testi della III dinastia di Ur. Allo stesso modo vengono create durante la III dinastia di Ur una serie di province, sono in tutto 22, che si basano su un sistema amministrativo ferro e ferreo e una gestione centralizzata dell'amministrazione e delle province attraverso la nomina di enzi locali, quindi diversamente da quanto fatto dai sovrani accadici che tendevano a lasciare gli enzi locali al potere e quindi a favorire poi le rivolte delle città-stato sumeriche, i dinasti della III dinastia di Ur tendenzialmente sostituiscono tutti quanti i sovrani delle dinastie locali, ponendo a capo delle diverse città-stato, delle diverse città sumeriche, degli enzi locali che sono dei veri e propri funzionari di carriera nominati dal sovrano di Ur III. Allo stesso modo, per quanto riguarda l'amministrazione militare, vengono posti a comando dell'esercito diversi shagina che sono dei capi militari di nomina reggia. L'impero centralizzato di Ur III pone una tassazione, la cosiddetta bala in sumerico, sulle 22 province dell'impero e questa comporta l'accentramento da parte della capitale Ur III di risorse agricole, quindi tassazioni in quantità di grano che entrano nelle casse centrali e nei magazzini dell'impero, ma anche tassazioni che riguardano capi di bestiame, ma anche forza lavoro coatta. In questo periodo vengono promulgati i primi codici di leggi, come il codice di Urnamu, che recita se un uomo commette un omicidio sarà ucciso, se un uomo commette un furto sarà ucciso, se un uomo divorzia dalla prima moglie dovrà pagarle una mina d'argento. Questo codice di leggi, che è stato attribuito ad Urnamu e che è oggi conservato presso il Museo di Istanbul, è il primo vero e proprio codice di leggi emanato da un re sumerico, che è diverso dagli editti di periodo protodinastico, dei quali avevamo parlato nelle lezioni precedenti, dove il re, l'ansilocale, tendeva a rimettere i debiti dei debitori, a liberare gli schiavi, ma erano degli editti che venivano promulgati una tantum. Invece il codice di leggi emanato da Urnamu sarà ripreso poi dai sovrani di periodo paleobabilonese all'inizio del secondo millennio a.C. e famosissimo il codice di Amorrapi, che è l'esempio più eclatante di codice di leggi. Nel periodo neo sumerico vengono anche riformati sistemi di scrittura e annotazione di pesi e misure. Questo è chiaramente visibile, ad esempio, dall'emanazione di diversi pesi reali recanti i nomi dei sovrani della terza dinastia di Ur, accanto al valore del peso stesso. Questo serve a garantire degli standard ponderali di riferimento che vengono emanati dall'autorità centrale. Infatti nel periodo di Ur III viene stabilito, ad esempio, che una mina corrisponde a circa 60 sicli, ovvero 504 grammi, e che il talento corrisponde a circa 60 mine, ovvero circa 30 grammi. Oltre appunto alla riforma di sistemi di scrittura e annotazione dei pesi e delle misure, vengono anche standardizzati i sistemi di misurazione, i catasti generali, e vengono formalizzate le dimensioni delle diverse province dell'impero di Ur III. Durante il regno dell'ultimo dinasta, Ibi Sin, della terza dinastia di Ur, assistiamo alla caduta di Ur III. In questo periodo sono documentate scarse piene dei fiumi Tigri e Ofrate e un generale in aridimento delle condizioni climatiche sul finire del terzo millennio a.C. Questa situazione comporta una crisi generalizzata della produzione agricola e oltretutto il centro dell'impero di Ur è minacciato dalla pressione da parte dei nomadi Gutei, Sua e Martu, che spingono verso il centro dell'impero. Oltretutto ad aggravare la situazione è la defezione di Ish Bierra, che è un governatore di Mari, che si rende autonomo e prende il controllo delle città di Eshnunna, di Nippur e di Isin, nella Mesopotamia centrale. Quindi la città di Ur, infine, viene assediata dall'esercito Elamita e i Bisin, dopo anni di carestia chiuso in un territorio ormai ridotto, viene sconfitto dall'esercito Elamita e deportato in ceppi ad Anshan, come sappiamo, da testi epatoscopici e soprattutto dalla lamentazione per la distruzione di Ur. Questo testo, che si è conservato in copie nella biblioteca di Nippur e che oggi è esposto presso il Museo del Louvre a Parigi, racconta l'abbandono da parte delle divinità della città di Ur e Ningal, che è l'io narrante della lamentazione di Ur, piange alla distruzione della sua città. Leggiamo un passo dalla lamentazione per la distruzione di Ur. Ai, le tormenti si sono abbattute su tutto il paese, la violenta bufera celeste, la bufera rombante, la triste bufera ha imperversato su tutto il paese, la bufera che distrusse le città, la bufera che distrusse le case, la bufera che distrusse le stalle, la bufera che distrusse gli ovili, la bufera che ha impedito i riti sacri, che ha rovesciato con mano profana l'altissimo consiglio, la bufera che ha tagliato via ogni bene del paese, la bufera che ha immobilizzato i capi neri, cioè i sumeri, i cosiddetti chi e nghi, nella lingua sumerica. Quindi la tradizione, anche posteriore e soprattutto del secondo millennio a.C., ricorda la distruzione di Ur come un evento devastante, come una specie di bufera che ha distrutto tutti i principali santuari cittadini, fatto crollare le mura delle città del sud sumerico e lasciato devastazione in tutto il sud sumerico in relazione alla caduta della terza dinastia di Ur. Se questa parte della lezione vi è chiara, mi saprete allora dire quali sono le principali riforme introdotte dai sovrani della terza dinastia di Ur? Passiamo all'argomento successivo, ovvero l'urbanistica e l'architettura. La maggior parte delle informazioni sull'urbanistica del periodo di Ur III provengono dal sito di Tel Mukaiyar, ovvero l'antica città di Ur. Come vedete dall'immagine satellitare, sono state scavate diverse strutture all'interno del tessuto urbano della città di Ur, in particolare dalle indagini archeologiche condotte all'inizio del Novecento da Sir Leonard Wulley. Sono state individuate l'area sacra al centro dell'insediamento, nella parte settentrionale, piuttosto nella parte settentrionale della città di Ur, e diverse porte, sia localizzate lì dove indicano le frecce, ma anche dei cosiddetti watergate, ovvero delle porte acquatiche nelle quali entrano i canali che dovevano attraversare la città di Ur, come nella ricostruzione che vedete abbastanza idealizzata, ma che in realtà dovrebbe corrispondere più o meno alla realtà della città antica. Quindi la parte scavata della città di Ur corrisponde all'area sacra amministrativa che è cinta da un temenos, quello che vedete raffigurato nell'immagine è il temenos di età neobabilonese, quindi di periodo più tardo del primo millennio a.C., mentre il temenos della terza dinastia di Ur è stato individuato in pochi settori e dovrebbe essere in parte più arretrato, almeno nel suo settore orientale, e corrispondere più o meno a questa linea. Le strutture messe in luce all'interno dell'area sacra e maggiormente conservate sono la cosiddetta etemeninguru, cioè la zigurat dedicata al dio Nannasin, il ganumak, che sarebbe il tesoro costruito da Amar Suen, il ghiparu, che è l'area sacra delle sacerdotesse Entu, del dio Nannasin, e l'Ekurzag, il palazzo di Sciulgi, mentre a sud-est, al di sotto del temenos di periodo neobabilonese, sono stati rinvenuti i mausolei dei sovrani della terza dinastia di Ur. Il palazzo cosiddetto di Sciulgi o Ekurzag è stato scavato e messo in luce in tutta la sua estensione, ma è conservato solo in fondazione. La pianta è quadrangolare e ricorda molto il tipo di impianto planimetrico del palazzo di epoca accadica scavato a Telbrac, il cosiddetto palazzo di Naransim. Nella fase di Ur 3 viene a definirsi l'impianto che diverrà poi canonico delle strutture di governo e dei palazzi fino all'epoca palo-babilonese, quindi all'inizio del II millennio a.C., che prevede una corte più o meno quadrangolare e un dispositivo con la sala delle udienze, preceduto da un'anticamera a sviluppo longitudinale e la sala dell'udienze, la sala del trono, immediatamente alle spalle, anch'essa a sviluppo longitudinale, ma di maggiori dimensioni. L'assesso dispositivo planimetrico che troviamo nel palazzo di Sciulgi a Ur viene replicato nel palazzo cosiddetto dei governatori nel sito di Eshnunna, nella valle di Yala. Il palazzo di Eshnunna, come vedete, ha anch'esso un accesso tramite una corte quadrangolare, un'anticamera e una camera, la cosiddetta sala del trono, sala delle udienze, alle spalle, mentre nel settore sud-occidentale della struttura doveva essere localizzata la cosiddetta cappella palatina. In una fase successiva, databile al regno di Shusin, viene costruito un tempio dedicato alla divinità di Shusin, quindi al re divinizzato, che è questa struttura di forma quadrangolare che ha un accesso assiale che mette verso una corte quadrangolare centrale con alle spalle la cella per il culto del re divinizzato. Ma una delle innovazioni principali del periodo di Urtrè è proprio la costruzione delle cosiddette zigurat. Ziguratu significa costruito in altezza. Infatti, questi santuari sono elevati su più piattaforme sovrapposte, almeno probabilmente nel numero complessivo di tre. La zigurat meglio conservata è quella costruita da Ur-Nammu a Ur, la cosiddetta etemeninguru, dedicata al dio Nannasin, cioè al dio lunare. Come vedete, l'impianto della zigurat di Ur prevede un accesso turrito localizzato nella porzione nord-orientale che mette in una prima corte e con un secondo passaggio di sassato rispetto al primo si accede alla seconda corte, ovvero la corte della vera e propria zigurat dove è localizzato non solo il santuario dedicato a Nanna ma anche probabilmente dei dispositivi che sono delle cucine templari dove venivano preparati i pasti offerti alle divinità. La zigurat di Ur, che è quella meglio conservata, costruita da Ur-Nammu, prevede la costruzione su più piani sovrapposti con delle facciate articolate, nicchie e lesene e leggermente inclinati dall'alto verso il basso con una rampa di accesso ortogonale, la rampa principale, e due rampe di accesso laterali che mettono al primo piano mentre il secondo e il terzo piano probabilmente erano raggiungibili attraverso una rampa ortogonale che portava all'altezza dell'ultimo piano alla struttura templare vera e propria che però nel caso della zigurat di Ur ma anche delle altre zigurat documentate nelle città del sud esumerico non è conservato. Si calcola che per la costruzione della zigurat di Ur siano stati impiegati 6.876.900 mattoni crudi e 663.000 mattoni cotti che sono una quantità enorme di mattoni che prevedono appunto una corrispettiva quantità di forza lavoro e di operai che devono realizzare i mattoni e devono metterli in opera. L'interno di queste strutture templari costruite a gradoni era costituito da mattoni ma anche da spuoglie di canne che servivano a rendere la struttura più elastica e anche dei canali di scolo che servivano a far difluire le acque piovane le acque piovane dall'interno della struttura. Altre zigurat costruite da Ur-Nammu nei principali centri del sud sumerico sono le zigurat di Uruk di Nippur ma anche le zigurat di Eridu ed Adab che purtroppo sono poco conservate come potete vedere erose dall'esposizione prolungata alle intemperie. Tutte le zigurat dovevano avere una planimetria simile quindi con due corti di accesso e una struttura a gradoni sovrapposti. Solamente la zigora di Ur-Nammu che probabilmente aveva delle dimensioni diverse rispetto alle altre con il lato lungo più sviluppato rispetto al lato breve. Altre strutture caratteristiche del periodo di Ur-3 sono il cosiddetto santuario Ghiparu delle sacerdotesse Entu. Il Ghiparu che era il tempio di Ningal la paredra del dio lunare Nanna era la residenza delle sacerdotesse che però è stato ricostruito ampiamente in periodo palo-babilonese sotto le dinastie di Isina e Larza e quindi della planimetria databile alla terza dinastia di Ur sappiamo pochissimo ma probabilmente nel periodo di Isina e Larza venne ripresa ampiamente la struttura del santuario dell'epoca precedente distrutto dalle incursioni e la mite alla fine del terzo millennio avanti Cristo. Un'altra struttura caratteristica dell'epoca di Ur-3 sono i cosiddetti mausolei reali che sono documentati nel settore sud-orientale come abbiamo visto prima del Temenos neobabilonese del primo millennio avanti Cristo in parte si trovano anche proprio al di sotto del Temenos più tardo. Questa struttura dei mausolei era accessibile tramite una scalinata ed era realizzata con delle volte con conci aggettanti. La struttura diciamo il nucleo più antico dei mausolei è questo qui centrale che sembra essere stato costruito da sciulghi per Ur-Nammu quindi per il sovrano precedente mentre le altre strutture quella a sud sembrano seguire il nucleo principale costruito da sciulghi per Ur-Nammu e sono il mausoleo costruito da Amar-Tsuen per sciulghi e il mausoleo costruito da Shusin per Amar-Tsuen quindi ognuno dei sovrani dedicava al predecessore divinizzato la cappella funeraria. Questi mausolei come vedete hanno una pianta quadrangolare tipica delle case di abitazione del periodo con una corte centrale e delimitata da vani sussidiari ai lati. L'articolazione delle facciate Nicchie e le Sene riprende invece l'architettura sacra del periodo e in particolare documentata come abbiamo visto nelle zigurat di Ur e degli altri centri sumerici ma anche nel palazzo di sciulghi divinizzato. Al di sotto dei piani pavimentali di queste stanze longitudinali evidenziate in verde sono documentate le stanze funerarie dei sovrani della terza dinastia di Ur. Purtroppo la maggior parte delle stanze sono state rinvenute svuotate probabilmente perché saccheggiate durante la presa e la mita della città di Ur. Come vedete in questa ricostruzione 3D in questo rendering 3D dei mausolei l'accesso avveniva tramite delle rampe delle scalinate con conci aggettanti e i mausolei avevano a loro interno varie installazioni come altari e bacini per le pratiche rituali legate al culto dei sovrani defunti ed erano probabilmente accessibili in più momenti e riaperti per effettuare il culto dei sovrani divinizzati. Quindi se anche questa parte della lezione è chiara mi saprete dire che tipo di dispositivo planimetrico viene introdotto nell'architettura palatina del periodo di Ur III e qual è l'edificio templare tipico del periodo. Passiamo ora all'argomento successivo ovvero statuaria rilievo e toreutica. Purtroppo la maggior parte delle opere datate alla terza dinastia di Ur non è stata rinvenuta negli scavi archeologici perché probabilmente sono state quasi tutte deportate dal Sacco e la Mita in Iran sud-occidentale e quindi non abbiamo delle testimonianze dirette sulla statuaria del periodo Ur III al contrario abbiamo diverse testimonianze per quanto riguarda la statuaria del periodo post-accadico della seconda dinastia di Lagash e in particolare numerose statue sono attribuibili al sovrano Gudea. Gudea si fa raffigurare in diversi modi come sovrano con le mani giunte in posizione seduta ostante e solitamente ha questo abbigliamento con una toga che lascia la spalla sinistra la spalla scusate destra scoperta con un lembo riportato sotto il collo e con la spalla sinistra che è coperta e sul braccio sinistro ricade un ampio lembo pieghettato. Le statue di Gudea sono realizzate così come lo erano quelle di periodo accadico con indiorite quindi con una pietra rara assente diciamo del tutto nella Mesopotamia meridionale e che veniva importata dall'area del golfo persico arabico. Il fatto che Gudea realizzi le sue statue con la diorite implica la possibilità di questo dinasta di poter raggiungere le reti commerciali e quindi arrivare fino all'Oman il cosiddetto paese di Magan le fonti sumeriche per procacciare la materia prima per la costruzione delle sue statue a differenza dell'iconografia che se vi ricordate è caratteristica dell'epoca accadica in questa fase i sovrani si fanno rappresentare come pii e devoti alla divinità e non quindi più come degli eroi dei re guerrieri soprattutto nelle statue di Gudea di Lagash viene descritta la costruzione del Leninno come viene ricordato nel cilindro A ma anche nel cilindro B di Gudea conservati presso il museo dell'Uvr Gudea vide in quel giorno in sogno il suo re il signore Ningirzu gli comandò di costruirgli la casa e gli fece contemplare l'Eninno dai destini grandiosi anche nella cosiddetta statua di Gudea dell'architecto o plan conservata anch'essa presso il museo dell'Uvr viene descritta la costruzione del santuario Eninno oltretutto viene raffigurata la planimetria di quella che probabilmente doveva essere il recinto sacro il Temenos del tempio Nino di Ningirzu con l'accesso turrito che ricorda da vicino la planimetria delle zigurat della fase di Ur 3 in questo periodo sono attestate anche diverse statue di figure femminili cosa rara nell'espressione artistica della Mesopotamia meridionale nel terzo millennio avanti Cristo questi personaggi femminili dovrebbero rappresentare probabilmente le sacerdotesse quindi delle sacerdotesse Entu del dio Sin quindi dei personaggi di alto rango non abbiamo come diciamo prima statue databili alla fase della terza dinastia di Ur ma contemporanee alla terza dinastia di Ur dovrebbero essere sono queste statue degli sciaccannacco di Mari come Ishtup Ilum e Puzur Ishter che vengono anch'essi raffigurati come pide voti alla divinità con le mani giunte all'altezza del petto e le loro statue sono così come le statue di Gudea di Lagash scolpite nella diorite l'unica statua frammentaria che è conservata oggi presso il museo di Bagdad in Iraq è la statua di Shulgi che rega una iscrizione sul dorso però la statua è talmente frammentaria per poter ricostruire gli aspetti principali della statuaria di Ur 3 un monumento invece importante databile alla terza dinastia di Ur e in particolare al regno di Ur Nam è la cosiddetta stelle di Ur Nam questo tipo di stelle riprende l'eredità delle rappresentazioni di epoca accadica ma nel caso delle raffigurazioni della dinastia di Ur 3 non è tanto l'episodio guerresco che viene narrato ma si parla soprattutto di costruzioni e di dediche da parte dei sovrani di templi alle principali divinità poliadi infatti le stelle della terza dinastia di Ur sono piuttosto delle stelle idili nella stelle di Ur Nam viene raffigurata su più registri sovrapposti la narrazione della costruzione di edifici templari e vediamo l'immagine è la narrazione articolata in più registri sovrapposti in un recto e in un verso nel recto viene raffigurato nel primo registro l'omaggio del sovrano a Elil e Ninlil che è questa divinità rappresentata sulla destra che dovrebbe tenere in grembo probabilmente o una divinità oppure il figlio di Ur-Nammo ovvero sciulghi di sopra delle due divinità vengono rappresentate delle idee minori della fertilità che tengono in mano dei vasi con le acque zampillanti la rappresentazione di queste divinità che vengono fuori dalla parte superiore della stelle ha portato Legrin che è il filologo che scavava a Ur con Wully negli anni 20 a definire questa stelle come la stelle degli angeli nel registro inferiore che è quello più conservato viene rappresentato un atto di libagione del sovrano davanti alle divinità Enchi e Ninmach invece nel terzo e nel quarto registro che devono essere letti in maniera conseguenziale viene rappresentata una scena edile con il sovrano in testa alla processione che porta gli strumenti dell'architetto e gli operai che vengono rappresentati in basso che innalzano le murature quindi sono intenti nel costruire una struttura probabilmente a carattere templare l'ultimo registro è talmente laconoso che non è possibile ricostruire la scena raffigurata invece sul verso verso l'alto nel primo registro doveva essere rappresentato anche qui l'omaggio del re ad una coppia divina forse Nanna e Ningal e le idee patroni di Ur sul secondo registro che invece è più conservato sono rappresentati i riti epatoscopici nei luoghi della costruzione dei canali nel terzo registro vengono rappresentati degli atti sacri di fronte a due divinità in questo caso forse Shamash e Ningirzu nel quarto registro sono raffigurati dei musicanti che partecipano alla celebrazione religiosa e nell'ultimo registro in basso il quinto che forse doveva essere uguale e speculare a quello rappresentato sul recto viene raffigurato il culto verso una statua probabilmente di un sovrano regalizzato oppure di un antenato regale infatti sappiamo come abbiamo visto nei masolei reali di Ur che venivano svolti i culti per gli antenati regali divinizzati dagli stessi sovrani di Ur III e vedete una restituzione della stelle di Urnamu così come è stata restaurata intorno ai primi anni 20 con delle integrazioni che hanno falsato la ricostruzione infatti ad esempio il crescente lunare e il sole in alto sono totalmente inventati e aggiunti di sana pianta però in realtà facendo riferimento a altre raffigurazioni su stelle contemporanee dove questi due simboli compaiono in alto sulla stelle ma probabilmente dovevano essere attestati anche nella stelle di Urnamu ma chiaramente non è possibile ricostruirlo sulla base dei dati a disposizione proprio perché la stelle era molto frammentaria la stelle è stata rinvenuta davanti alle Dublamakh che era la corte di giustizia proprio all'ingresso della zigurat dedicata al dio Nannasin nel Temenos della terza dinastia di Ur altre opere minori della terza dinastia di Ur sono i cosiddetti chiodi di fondazione vedete qui un chiodo che raffigura il re Urnamu conservato presso il Metropolitan Museum questi chiodi di fondazione venivano posti al di sotto delle fondazioni degli edifici templari e raffigurano solitamente il sovrano nell'atto di trasportare una cesta piena di mattoni come nel caso di Urnamu ed è un'iconografia proprio tipica che viene introdotta a partire dalla terza dinastia di Ur se anche questa parte della lezione è chiara allora saprete rispondere alla seguente domanda ovvero quali sono i caratteri principali della statuaria neusumerica passiamo ora all'ultimo argomento ovvero alla glittica nel periodo di Ur 3 assistiamo un'ampia diffusione del sigillo cilindrico anche tra artigiani e lavoratori diciamo che generalmente il sigillo cilindrico come strumento amministrativo era detenuto nelle fasi precedenti in particolar modo dai funzionari che attraverso l'uso del sigillo andavano a documentare l'ingresso e l'accesso a alcune stanze oppure documentavano il prelievo di granaglie all'interno di sacchi conservati nei magazzini da questa fase in poi il sigillo cilindrico diventa si democratizza in un certo senso e diventa uno strumento utilizzato anche da altre classi di lavoratori accanto ai funzionari le scene rappresentate sulla glittica della fase ortre sono scene sintetiche e schematiche per lo più riconducibili all'ambito rituale infatti vediamo come viene dato maggior spazio all'iscrizione con il nome del proprietario e la dichiarazione di fedeltà al dio perché viene lasciato maggior spazio all'iscrizione con il nome del proprietario proprio perché essendo il sigillo ampiamente diffuso in questa fase quindi le iconografie sono poco variate e si tende a identificare il proprietario del sigillo attraverso l'iscrizione che ne riporta il nome i sigilli vengono prodotti soprattutto in colorite che è la pietra più utilizzata ma a partire dalla fase di urtree viene introdotto anche l'uso delle matite che poi verrà ampiamente utilizzata anche nella fase successiva all'inizio del secondo millennio avanti Cristo le scene rappresentate sulla glittica di epoca urtree sono veramente molto standardizzate e molto ripetitive nella maggior parte dei casi la scena più attestata è la cosiddetta scena di introduzione dove viene rappresentata una divinità minore che introduce il proprietario del sigillo tenendolo per il braccio presso la divinità principale assisa sul trono quindi diciamo che la divinità minore intercede per il proprietario del sigillo in alto a sinistra vedete raffigurato il sigillo di Gudea questo non è il sigillo originario ma è un'impronta dove ricostruita sulla base della sovrapposizione di più impronte dello stesso dello stesso sigillo e viene rappresentato il sovrano Gudea che viene introdotto dal suo dio personale che è Ningizida che lo introduce davanti al dio Ningirzu che è rappresentato con la stessa iconografia del dio Enki con i vasi delle acque zampillanti che rappresentano l'Absu le scene di introduzione vengono a definirsi nella presente fase accadica ma sono molto rare mentre sono diffusissime a partire dal periodo di Urtree come vedete anche su queste impronte di sigillo conservate presso il British Museum e verranno poi riprese dai sovrani del secondo millennio a.C. in particolar modo in epoca paleobabilonese quindi abbiamo visto come moltissime delle innovazioni che vengono introdotte dalla terza dinastia di Urtree sul finire del bronzo antico quindi del terzo millennio a.C. verranno riprese e rielaborate dai sovrani della dinastia paleobabilonese che succede immediatamente dopo alla terza dinastia di Urtree all'inizio del secondo millennio a.C. quindi se anche questa parte della lezione è chiara saprete rispondere alla seguente domanda ovvero quali sono i motivi conografici più comuni della glittica di epoca neosumerica vediamo ora insieme il riepilogo e gli spunti di riflessione quali sono le principali riforme introdotte dai sovrani della terza dinastia di Urtree che tipo di dispositivo planimetrico viene introdotto nell'architettura palatina del periodo di Urtree qual è l'edificio templare tipico del periodo e ancora quali sono i caratteri principali della statuaria neosumerica quali sono i motivi conografici più comuni della glittica di epoca neosumerica bene la mia lezione termina qui vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che tutti i materiali aggiuntivi li potete trovare sul sito di Uninet1 arrivederci